Gentili telespettatori, buona giornata. Ogni tanto si parla di Aboubacar Soumaor. Nelle settimane scorse aveva fatto grande scalpore all'inizio di questa legislatura, poi come tutte le cose piano piano non se ne parla più. Vedrete che fra qualche tempo gli italiani avranno dimenticato e magari questo troverà posto nella prossima legislatura in qualche altro partito che lo accoglie, perché noi viviamo in una repubblica delle banane. Così Pinuccio estrisce la notizia però non si arrendono su Aboubacar. La trasmissione del TG satirite, quella di Canale 5, di Ricci, vuole fare chiarezza sulla vicenda che ha visto protagonista il deputato. In particolare sul mutuo di 270.000 euro erogato all'ex sindacalista, a fronte di un reddito lordo di 9.000 euro all'anno. Lui quando ha ricevuto sto mutuo aveva 9.000 euro all'anno, forse perché aveva venduto qualche libro, sua ma non lo so esattamente dove, mentre aveva dichiarato 9.000 euro nel 2022 e 24.000 euro tutto lordo nel 2021. Con un reddito di questo tipo lordo la banca neanche ti fa entrare, neanche ti fa sedere. Dice no stia in piedi, stia in piedi, con quel reddito lì non si può neanche sedere. Cosa vuole da noi? Vuoi venire a parlarmi con quel reddito? Sei impazzito? Ecco, quindi la striscia della notizia dice come fa uno con un reddito tra 9.000 e 24.000 euro lordo ad avere un mutuo di 270.000 euro. Più gli interessi, naturalmente. Stando alle parole di Somma Oro, la casa a Roma sarebbe costata 360.000 euro nel 2022. Aveva dato l'anticipo di 90.000 euro. Però a striscia della notizia qualcosa non torna. L'inviato di Ricci ha mandato un attore nella stessa banca per chiedere un prestito di pari importo a parità di condizioni. Niente da fare. Da qui la domanda, ma è possibile ottenere un mutuo di questo genere con un reddito così basso? O meglio, come ha fatto Somma Oro ad avere un reddito di quell'importo? Da qui la scoperta di Pinuccio che definisce una piccola curiosità. La banca erogatrice del mutuo è la stessa dove arrivano i soldi delle controverse raccolte fondi, ovvero quelli che anziché andare alla lega abbraccianti finivano direttamente sul suo conto corrente personale. Non è la prima volta che il TG satirico tenta di far luce su questo. Allora, per la conoscenza che ho io delle banche, non in tutti i paesi ragionano allo stesso modo le banche. A volte guardano non solo le tue entrate da stipendio, ma guardano quanto si muove sul conto corrente. In alcuni paesi, che tu prenda 10.000 euro o 50.000 euro, loro guardano quanto si muove il conto corrente, quanti depositi, quante uscite, la movimentazione. Certo che se tu hai uno stipendio di 2.000 euro lordi, però sul tuo conto corrente ogni mese si depositano 100.000 euro, 70.000 e ne prelevi 40 e ne depositi 80 e ne prelevi 60, c'è un certo movimento. Quindi una banca potrebbe darti un prestito anche vedendo e valutando questa movimentazione sul conto corrente. In alcuni paesi le banche ragionano così. Non sono sicurissimo se in Italia facciano questo discorso, oppure la cosa più logica, che forse Striscia la Notizia non ha pensato, è che Soumaoro Abu Bakr vive con una donna. Sono sposati, questo non l'ho mai capito. A volte dicono la compagna, a volte dicono la moglie, c'è differenza tra compagna e moglie. Perché se tu sei sposato in comunione dei beni e tua moglie lavora come socia di una cooperativa e ha uno stipendio, come si diceva, di circa 5-6.000 euro al mese, e allora lì ti danno il prestito. Con 5-6.000 euro al mese di stipendio della moglie, in comunione dei beni, sto facendo un'ipotesi, la banca ti presta 270.000 euro. Perché vede, il tuo stipendio seppur basso, 24.000 euro lordi, più, non lo so, i 120, 130, 150.000 della moglie lordi, se li metti assieme fanno 170-180.000. E non è da tutti avere delle entrate economiche di questo tipo, quindi potrebbe aver avuto il prestito di 270.000 per questo. E come vi dicevo, la movimentazione di quei soldi. Poi, di solito, la banca ti fa anche un prestito se tu hai dei soldi investiti, se tu hai dei soldi messi in titoli di Stato, in azioni, la banca ti può anche dire io te li presto, però tu a garanzia mi tieni questi, non lo so, 200.000 euro investiti in titoli di Stato, me li lasci lì investiti a garanzia del prestito che ti faccio. Quindi potrebbero esserci anche dei soldi investiti da questo Ubu Barak, che nessuno sa niente. Si riesce alla notizia e dice ma lì andavano, le donazioni andavano direttamente sul conto corrente suo. Diciamo che una banca non ti presta 270.000 se hai un reddito di 9.000 euro o di 24.000 euro all'anno. Non te li presta. Quindi per prestarli ci devono essere delle caratteristiche, delle situazioni che si verificano, che può essere la comunione dei beni con la moglie, può essere la movimentazione del conto corrente, soldi che arrivano, che escono, eccetera, eccetera. Dispiegazioni se ne sono tante. Sta di fatto che con 9.000 euro lordi o 24.000 euro lordi, quello che è sicuro e matematico è che non ti prestano 270.000 euro. Sicuro come l'oro. Ma voi credete veramente che la magistratura non abbia indagato o stia indagando queste cose qua? Guardate che la magistratura ha indagato su questa persona. Fino adesso non è uscito fuori nulla. Non è detto che fra qualche tempo venga fuori o potrebbe non venire fuori mai. Io vi dico una cosa. Se ti arrivano sul conto corrente 90.000 euro e tu ogni giorno vai a prelevare dal bancomat, tutti i giorni, tutti i giorni, quei 90.000 li fai sparire in un certo tempo. Dove sono? Li ho giocati al casino, ho comprato da mangiare, sono andato in discoteca, al bar, al ristorante. Una volta che tu hai prelevato i soldi dal bancomat e te li sei messi in tasca è finita. Non sono più tracciabili. Ecco, qui è il punto. Per far sparire i soldi basta che tu prelevi ogni giorno tum tum tum. Nessuno ti può dire niente. Ma tu spendi tutti quei soldi? Eh sì, io mangio bene, spendo tutti i giorni una certa cifra. Avete capito? Per fare sparire i soldi li prelevi giorno dopo giorno, sabato, domenica compreso, vai al banco ma tu tuc tuc prelevi il massimo ogni giorno ed è fatta. Dove sono finiti i soldi? Saranno sotto il cuscino? Bah. Dentro il muro di casa? In giardino? Arrivederci a tutti e grazie.